perché è importante il 753 avanti cristo perché sarà la data della fondazione di roma tra i numeri disperi tutti in ordine discendente 753 avanti cristo nel 753 avanti cristo in italia nascerà una piccola città che sarà destinata a governare tutto il mondo a quel tempo conosciuto si tratta di roma il 21 aprile 753 avanti cristo verrà fondata a roma che pian piano allargherà il suo territorio al punto da conquistare un territorio vastissimo e sarà destinata a governare uno degli imperi più grandi della storia ciao al prossimo video vi aspetto ciao